Un caro saluto a tutti quanti, oggi vi parlo delle novità del nuovo sistema di Google Chrome Prima cosa, bisogna aggiornare il browser, quindi come si fa? Tre pallini, guida, informazioni su Google Chrome, vi assicurate di avere questa versione installata Seconda cosa, vedete qua in alto che c'è una simpatica novità e adesso andremo a vederla perché per quanto mi riguarda potrebbe, ma è da testare francamente diventare anche più interessante rispetto alle cartelle cioè io ad esempio mettiamo giochi, io ad esempio mail e social, ho tutta quella roba qua quindi vado a selezionarmi questo e vado ad aprirmi quello che mi interessa Questo vale per esempio per i siti di videogame che in realtà ha delle sottocartelle eccetera 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 Qual è il concetto di queste schede? Vedete che voi per esempio sul fronte social potete andare a premervi la scheda che viene automaticamente mantenuta anche qua e nel momento in cui voi premete social, lui vi apre automaticamente tutte le vostre schede ok, questo è interessante, importante, utile eccetera eccetera però qual è la logica? Una volta che voi non vi serve lo comprimete e non occupa voi adesso mi starete per dire, giustamente aggiungo sì ma tutta quella roba qua mi consumerà 25.000 tonnellate di giga eccetera eccetera no perché già da un po' Google Chrome ha lavorato sulle versioni tali per cui solo le schede attive effettivamente consumano risorse è ovvio che se voi ne avete aperte 10 saltate continuamente da una scheda lui deve mantenere continuamente attive che non è che può disattivare la velocità della luce è ovvio che in quel tipo di condizione ad un certo punto iniziate a sfruttare risorse a cannone ma perché le avete aperte e perché le state usando? averle tipo così non vi cambia assolutamente la vita andiamo invece a vedere come si fanno anche perché potete crearne di nuove, salvarle eccetera eccetera allora se voi ad esempio andate qua e per esempio io ho una serie di siti nel mio caso videogame ha questa qua di game server tra l'altro ho pure sbagliato perché l'ho messa così e invece l'ho messa in questo modo quindi per esempio io ho sbagliato e quindi faccio tasto destro su questa aggiungo una scheda e posso crearla ad un gruppo ad un nuovo gruppo piuttosto che ad un nuovo ad un gruppo che naturalmente esiste già io la chiamiamo giochi facciamo un bel pallino così la rifacciamo e ve lo faccio vedere e a quel punto vedete che il gruppo si è salvato in automatico a questo punto vedete che acquista anche una colorazione ad hoc perché l'ho scelta per questo quindi nel momento in cui io che ne so vado ad aggiungerci un altro sito all'interno di questa scheda è così perché in automatico viene aggiunta però io posso anche dire vedete che non ha la scheda rossa vado sulla parte qua multiplayer e dico aggiungi scheda al gruppo giochi e automaticamente questa viene inclusa nel momento in cui io lo comprimo nel momento in cui vado ad aprire questa vedrò le schede che sono aperte esattamente come per quelle social bene spero che questo video possa esservi stato utile naturalmente insomma mi farete sapere se lo sfrutterete se effettivamente questa cosa poi andremo avanti e la si utilizzerà per esempio lato lavoro io ho tutta una serie di link che necessariamente mi servono affinché io comunque devo tenere tutta una serie di monitoraggi e secondo me questa cosa qua è abbastanza comoda perché sono schede che comunque io ho aperte non è che le vorrei aprire ma in realtà sono comunque aperte quindi a quel punto qui magari se parliamo che ne so del siti di videogame mi uso la cartella perché alla fine ne apro una alla volta mi interessa vedere quella volta che mi serve però per esempio se uno è a casa social ti servono aperti tutti nel momento in cui siete per esempio per il lavoro tutte le schede vi servono quindi avere questo tipo di sistema che è a parte ripeto rispetto alle cartelle può avere un senso ma come tutte queste cose è diciamo così la quotidianità la voglia poi di premerlo di dire effettivamente più comodo più veloce più pratico rispetto a ho tutta una serie di chicche che poi in realtà non vado ad utilizzare quindi ripeto va proprio tutto messo nel calderone della possibilità che effettivamente questa cosa ci sia o meno bene io vi ringrazio infinitamente alla prossima e ciao